Io riesco a vederti, Vanni. Sei da sola nell'oscurità. Che tremi di paura. Oh, non ce n'è bisogno. Non ti voglio fare del male. Io vorrei solo un amico con cui giocare. Sono stato così tanto tempo in questo mondo digitale. Una vita solitaria. Senti, perché non diventiamo amici? Oh, ho trovato! Perché non facciamo un giochino? Sarà molto divertente. Tutto quello che devi fare è fare quello che ti dico. Sì! I like it, Kaji. PABLO 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 PABLO